quante volte vi capita di trovare del cioccolato in queste condizioni quando lo scartate il cioccolato non è più buono però è ancora buono ora forse è meglio che mi spieghi un po meglio quella che vedete è una florescenza cioè avviene quando il cioccolato cambia il suo stato di cristallizzazione esce fuori del grasso che dovrebbe essere burro di cacao oppure può uscire fuori dello zucchero in entrambi i casi il cioccolato ha perso il suo temperaggio non dovete disperare questo non va buttato perché è ancora buono potreste addirittura riportarlo alle condizioni originali però è complicato sapete come possiamo utilizzarlo fateci dei dolci una volta che sarà sciolto per esempio come guarnizione recupererà gran parte dei profumi che aveva originariamente buon appetito a tutti volete che io faccia un video specifico su un tema che vi è caro beh allora scrivetemelo nei commenti poi mi raccomando non dimenticate di seguire la pagina altrimenti una volta che faccio il video potreste non vederlo e buon appetito a tutti